Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale di Lettanti ha comunicato che la gara Canicatì-Catania, in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30, è valevole per la ventottesima giornata del girone I del campionato di Serie D, si dispoterà presso lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. Adesso c'è l'ufficialità e i tifosi del Catania cominciano a preparare l'esodo verso Caltanissetta per preparare la festa promozione e il ritorno nei professionisti. C'è fibrillazione tra i tifosi rossazzurri che in settimana cominceranno a preparare coreografie e striscioni per gli impreziosi nello stadio Tomaselli. I tifosi del Catania porteranno quel senso di appartenenza e passione che li contraddistingue da sempre, anche in questo anno di Purgatorio, dove non hanno mai smesso di fare per la loro squadra anche tra i dilettanti. Intanto oggi Lodi e compagni riprenderanno gli allenamenti in vista del Canicatì. Il tecnico Ferraro ha organizzato una settimana normale di preparazione, mentre lo staff dirigenziale discute se andare in ritiro a Caltanissetta il sabato oppure raggiungere il capologo nisseno la domenica mattina. Si aspettano ben 4.000 tifosi provenienti da Catania per cominciare la festa promozione da continuare poi in città, Canicatì permettendo.